Tre oggetti maledetti del Capitan Blade recuperati, ne mancano due, stiamo andando a cercare il penultimo a Wormwater. Come sempre dovremo prima trovare la bottiglia con il messaggio. E come vi ho detto alla mappa siamo abbastanza vicini. Ecco che si intravede la palma in cima alla quale si trova la bottiglia. Ci separa da lei in realtà un intero accampamento di pirati e invece di entrare dall'ingresso principale userò quello diciamo di servizio, cioè arrampicandomi su quelle rocce lì sulla sinistra. Ho girato intorno alla nave e ci siamo, ma tentato il colpaccio, vabbè, scaliamo un po' ste rocce. Mi prepara il comitato d'accoglienza, eccolo, cambiando arma. Proverò questa serafina la Devastator. Il suo punto di forza è la rapidità di fuoco, che è il doppio di quella che è indicata sulla scheda. Non male. E non stavo neppure indossando il distintivo da sceriffo che potenzia, da bestia, le pistole. E infatti la pistola diventa una specie di mitragliatrice talmente rapida. La palma. Si intravede il giallino del punto esclamativo con la bottiglia. Eccola lì. E leggiamoci anche questo messaggio. E raggiungiamo, seguendo la mappa, è facilissimo, questo canalone. Il tesoro è ovviamente in fondo e ci sono più super duri che mosche da queste parti. Avanzare non è effettivamente semplicissimo. Consiglio di tenere sempre a portata di mano un buon lanciarale. La sirena non se la sta cavando comunque poi così male. La parte terminale del canalone è infestata da vermi. E la grid di Scarlet, potere elementale fuoco, dovrebbe essere efficace. Per le X del tesoro orientatevi con le ancore. Questa è la prima. Quella è l'altra. Ora, non potete sbagliare, giratevi di qui. Ecco la X. E come ricompensa, uno scudo blu unico. Questo Captain Blade Manly Man Shield. Maledetto. L'ultima bottiglia è Cassa del tesoro e oggetto maledetto blu unico. E' qui nel Rusty Young. E' lunga scarpinata. Però ci prendiamo la scorciatoia, eh. Non faremo tutto il giro degli agglomerati con i pirati, ma scenderemo a prendere la pedana che ci ha portato rapidamente a suo tempo anche da l'eremita. Henry. Stando sulla destra e seguendo il costone della montagna, si può arrivare alla pedana senza essere scoperti. E siamo già anche arrivati dall'altra parte. La grid dovrebbe andare bene anche contro i formiragni. Veramente molto rapida. A vederci. Livello 53. In fondo, fino al ponte, stiamo ripercorrendo la strada fatta a suo tempo per andare a ripescare i nastri dell'eremita. Di Henry, ricordate? Cavolo, questo è tolto. Sto usando il Tattler. Altra arma serafina già provata nei video precedenti. Entrati nell'agglomerato, la bottiglia è lassù. salire le scale, entrare in un casotto e sarà vostra. La bottiglia in realtà non è proprio all'interno, ma dietro, per cui girateci intorno. Eccola lì che si intravede dalla finestra. È comodissima da prendere, ma neanche impossibile, insomma. Saltino. Eccola. Completerà il gruppo degli oggetti maledetti una reliquia. Dovremmo salire fin lassù e oltre. In cima, non scordatevi di fare una visitina alla megacassa. Ottimo bottino, direi. Seguite la mappa, andate avanti, fate fuori i formiragni, poi orientatevi con quella bandiera e questo ponte. Guardiamo anche un attimino la mappa. Siamo qui. La X è sotto quel portichetto qui. Avvicinatevi. Eccola. Scaviamo. E cucchiamoci questo idolo di 8 di Capitan Blade. E poi, non chiedetemi il perché, perché non mi ricordo. So solo che era tardi ed ero molto stanco. L'idolo non l'ho preso. Per cui sono semplicemente uscito dal gioco e dovendo a questo punto rifarmi la scalata, ho pensato di cominciare a utilizzare queste armi maledette. Cominciando da questo Repia. 200% di danno corpo a corpo. Il più alto dell'intero gioco. E questo Orphan Maker? velocissimo come Shotgun. 850% di arma danno. 72% in più di colpo critico. Però, utilizzando il Repia, anche i danni che verranno fatti a voi corpo a corpo saranno superiori. Ma quel 200% bilancia ampiamente. riuscite a immaginare cosa potrebbe combinare uno Zero con una build sul corpo a corpo. Magari abbinato ad uno scudo come l'Off Tamper che a sua volta lo potenzia. E Krieg? Una bestia. E questo Shotgun? Qual è la sua maledizione? L'ho accennata l'altra volta. in pratica il 5% del danno vi verrà restituito diciamo così come danno a voi stessi. Però chi se ne frega indossando anche una reliquia come il Bed Vice-Sceriffo o quella degli antichi che sto utilizzando che potenzia rapidità di fuoco e danno e anche tempo lotta per la vita ne fanno un'arma sull'eccezionale. E poi come vi avete fatto notare in un post il danno subito che il Krieg può addirittura diventare invece un vantaggio. Guardiamo ancora un po' all'opera questo gioiellino. Dove sei? Ciao. Dove ero rimasto silenzio? Un altro spacciato! Sì, ammetto che sto barando. Sto usando il glitch della Little Living. Questa volta non solo recupero la reliquia ma la indosso subito. Qual è la caratteristica del 8-idol? È che uccidendo un nemico recuperate una certa quantità di salute. Però diminuite anche il tempo di lotta per la vita di circa 3 secondi sto leggendo sul wiki di Borderlands. E sempre qui leggo che come conseguenza conviene usarlo con armi a vasto raggio distruttivo con kill multiple per recuperare il più rapidamente possibile tutta la salute. Insomma, i lanciarazzi o delle granate molto potenti. Ma ora formi ragno valoroso permettendo vorrei provare anche il mod granate Midnight Star. Eccole qui. E che cavolo! Allora è questa qui la maledizione di questo oggetto del Capitan Blade. Sono granate particolarmente potenti ma le granate figlie quelle cioè che si creano dopo l'esplosione principale ti ritornano addosso il che se sei circondato da nemici di per sé potrebbero essere così svantaggioso però di solito oioioioioi lo scudo Manly Man che sto per indossare un po' come Love Thamper ripotenzia il danno melee il prezzo da maledizione da pagare è però un maggior danno che subite dalle armi elementali altra particolarità è che il danno in più che infliggerete con i vostri colpi come questo esplosivo si diceva non si esaurisce quando lo scudo è esaurito il mio verdetto beh se non avete un personaggio particolarmente portato al danno melee secondo me a livello cacciatore definitivo rapier usata come arma da melee e questo Manly Shield mi hanno convinto si muore velocemente forse in modalità normale ovvero cacciatore la differenza sarà più apprezzabile e così è e sapete una cosa a meno di dimenticanze penso di aver esaurito anche questo DLC per cui mi do l'appuntamento al prossimo video all'inizio del DLC di Sir Hammerlock caccia grossa a risentirci di un'unico